54, 33 e 89 Si può fare! Questo programma è offerto da Antecopia in via Ferrarese 65-D a Bologna Telefono 051377523 Antecopia al vostro servizio Centro Starta e Centro Copia Antecopia via Ferrarese 65-D A Bologna, Bologna Vi aspettiamo! Buongiorno, ben ritrovati anche oggi con Qui diamo i numeri Oggi sono un po' scazzato, sono un po' sbogliato Però tre numeri per voi li ho lo stesso Partiamo subito! 23, il numero delle facoltà presenti a Bologna Nella nostra città 85, il disastroso numero delle vittime Della stagia del 2 agosto 1980 La famosa stagia della stazione a Bologna E 12, il numero delle porte storiche che circondano il centro di Bologna Se infiliate di me, correte subito a giocarli E noi ci vediamo al solito appuntamento domani Ciao ciao! 54, 33 e 89 Si può fare!